Buongiorno a tutti, in questo video cerco di introdurvi il concetto di logaritmo, quindi spiegarvi cosa vuol dire logaritmo in matematica e come lo si calcola. Normalmente la parola logaritmo tende un po' a spaventare, perché è una parola strana, non è in italiano, non è scritta in italiano, e ricorda qualcosa di astruso, di troppo complicato per essere capito, troppo complicato per essere interessante anche, e quindi è una cosa che generalmente viene un po' vista con sospetto e con un po' di timore. Il mio scopo oggi è farvi vedere che non è così, quindi che se la guardiamo nel modo corretto, dal punto di vista giusto, il calcolo di un logaritmo non è una cosa assolutamente complicata. Prima di dirvi che cos'è un logaritmo, vi dico qual è il problema da cui sorge la parola logaritmo, cioè perché noi oggi ci interroghiamo, io oggi con voi, insomma, passo questi minuti a spiegarvi cos'è un logaritmo. Perché se vi ricordate quello che ho fatto, che vi ho spiegato nelle equazioni esponenziali, o se lo sapete già per i fatti vostri, perché vi ricordate, insomma, le lezioni che avete seguito, quando si tratta di risolvere un problema del tipo 2 elevato alla x uguale a 4, questo problema è un problema abbastanza ovvio, anzi cambiamo il numero, se no è troppo, insomma, tutto ripetitivo. 2 alla x uguale a 8, nessuno di voi spero avrà dubbi a dirmi che x è uguale a 3. Perché? Semplicemente perché il numero a cui io devo elevare il 2 per ottenere 8 è 3, quindi la soluzione di questa equazione è 3. Quando l'equazione però diventa un pochino più complicata, quindi così mi trovassi a rispondere alla domanda all'equazione, insomma, 2 alla x uguale a 3, ecco che non è così immediato dirmi quanto fa x. Quanto fa x? Potrei girarvi la domanda adesso e invitarvi a pensarci mettendo in pausa il video. Quanto fa x? Di sicuro non sarà un numero intero, perché 2 alla 1 fa 2, 2 alla 2 fa 4, quindi sarà un numero compreso fra 1 e 2, di sicuro. Ma quanto fa davvero non è una risposta semplice. Ora potrei chiedervi di provarci, ora 1 può fare dei tentativi, no? Dicevo so sicuramente che x deve essere compreso fra 1 e 2, perché non ho dubbi sul fatto che 2 alla 1 sia più piccolo di 3 e 2 alla 2 sia più grande di 3. provo a stringere un pochino il campo, vediamo un po' cosa succede con 1,5. Ora quanto fa 2 alla 1,5? Magari poi si chiede in aiuto la calcolatrice, quindi 2 elevato a 1,5 viene fuori 2,83, sono il prossimo, 2,83, quindi siamo ancora più piccolo di, ora vuol dire che il nostro numero x dovrà essere più grande di 1,5, ma siamo più piccoli di 2. Ora potrei cercare una via di mezzo, vediamo un po' quanto potrebbe essere tra 1,5 e 2, provo con 1,6, 2 alla 1,6 quanto fa? Dovevo calcolare, adesso non farò tutti i passaggi fino a 10 cifre, ma solo per farvi capire il concetto. 3,03, se lo approssimo, per cui 1,6 è già troppo, allora la nostra x si riduce a essere un numero compreso tra 1,5 e 1,6. Posso andare avanti aggiungendo i decimali e continuare così. Se ho abbastanza pazienza, posso arrivare a dire che a un certo punto x sarà un numero circa, se no rimango ancora con il compreso tra, mi piace di più. Se faccio un po' di passaggio, un po' di pazienza, insomma, posso arrivare a ottenere che il mio x che sto cercando, la x che adesso io faccio un trucchetto, non vi dico, ma lo spiegherò magari dopo. Allora, io scopro che la x deve essere un numero compreso tra, aggiungo un po' di decimali adesso, 1,58496 e 1,58497, per esempio, ma potrei andare ancora avanti. Insomma, per tentativi scopro che questo numero, insomma, posso trovare una buona, una sua approssimazione, vi dico io, do uno spoiler, sarà un numero irrazionale, ma in qualche modo ci posso arrivare. Ora, è chiaro che non è comodissima questa cosa, allora a me, non so quanto mi interessi far vedere quante cifre ha questo numero. In genere, in matematica ci interessa sapere se la soluzione esiste o se può essere scritta in un modo approssimato. Per cui, io cosa faccio? Invece di scrivere tutta questa pappardella, tutta questa sequenza di numeri e lettere, insomma, numeri lunghissima, cosa faccio? Cerco di dare un nome alla risposta che sto cercando. 2 alla x uguale 3. Chi è x? Ora, sì, lo scrivo in italiano qua di fianco. x è quel numero complicato di prima, d'accordo? Ma chi è x? x è il numero, il numero a cui devo elevare la base 2 per ottenere 3. Ora, pensate adesso di essere non qui in questo anno a imparare matematica, ma a essere nell'antica Reciano, dove la matematica è nata. E, davanti a un problema del genere, 2 alla x uguale 3, quanto fa x? La risposta x è il numero a cui devo elevare la base 2 per ottenere 3, sembra una risposta un po' scontata, non sono un po' ovvia. Però, in realtà, se ci pensate un attimo, è la risposta corretta. È chiaro, non ho davanti il numero, però io posso chiamare x in questo modo. Adesso, se facciamo questo passo indietro nella Grecia antica, ci sono dei modi diversi di parlare rispetto a quelli che usiamo oggi. Per cui, quando si parlava di potenze all'epoca, insomma, si usavano parole leggermente diverse. Quindi, a posto di dire 2 elevato a x, o potevo anche dire 2 elevato a x uguale 3, o 2 elevato alla seconda, o 2 al quadrato, si usava la parola ragione. La ragione di un numero non era altro che il suo esponente. Ragione. Ragione era un po' un analogo della parola esponente che usiamo noi oggi. Ora, un numero di ragione 3 non era altro che un numero al cubo. Cubo, ok? Cubo, eccetera. Quindi, con la parola ragione si indicava l'esponente. Ora, se io voglio dire qui che x è il numero a cui devo elevare il 2 per ottenere 3, sto dicendo che 2x, insomma, è la ragione di 2 per fare in modo che il risultato della potenza sia 3. Allora, voi immaginate appunto di tornare in questa Grecia antica, come si diceva ragione in greco, era la parola logos, magari l'ho già sentita anche in altre materie, oltre che in matematica, la parola logos. E numero, come si diceva? Si diceva aritmos. Ora, se io ero interessato a dire che cos'è l'esponente che devo dare a 2 per ottenere 3, dicevo, adesso mi prendo un po' di licenza letteraria, che era il logos aritmos, sto dicendo di fianco, della base 2 per ottenere 3. Ok? Il logos aritmos della base 2 per ottenere 3. Allora, se portiamo questa cosa un po' avanti nella storia e nell'evoluzione del linguaggio, la parola logaritmo deriva da qui. Quando io parlo di logaritmos non sto facendo altro che usare una derivazione greca per indicare l'esponente da dare a una base. Ora, quando io voglio scrivere questa cosa in forma sintetica, dire che il logos aritmos della base 2 per ottenere 3 è quel numero lì strano che ho detto, cosa significa? Sto dicendo che x, chi è? È il logaritmo, quindi log, lo abbrevio in log, in base 2, perché la base è 2, e 3 è il suo argomento, cioè il numero che io voglio ottenere. Scrivere 2 alla x uguale 3 o scrivere x uguale logaritmo in base 2 di 3 è esattamente la stessa cosa. Cerco di scriverlo adesso in un modo più generale. Se in generale io ho a elevato a b che è uguale a c, io posso riscrivere questa cosa dicendo che b è uguale al logaritmo in base a di c. Detta così, spero, vi risulta meno complicata, cioè adesso la parola logaritmo non è una parola astrusa e stranissima e incomprensibile, non è altro che un altro modo di dare il nome agli esponenti. a elevato all'esponente b è uguale a c, benissimo, allora il suo esponente b è il numero dell'esponente, cioè il logaritmo della base a di argomento c, per ottenere c potremmo dire. Ora, se questa cosa la digerite, se questa cosa la accettate e non vi dà fastidio, si può adesso con semplicità calcolare dei logaritmi che vi posso inventare per voi. Allora, se io vi chiedessi, in questo momento, dopo che vi ho spiegato cos'è il logaritmo, eccetera, e vi chiedessi quanto fa il logaritmo in base 2 di 16, allora voi ci hai pensato un attimo, non lo so, vediamo un attimo cosa c'è scritto, che io devo scrivere dall'altra parte dell'uguale il logaritmo in base 2 di 16, cioè quel numero che io devo usare a esponente di 2 per ottenere 16. Cioè, se mi è comodo posso anche riscrivere il problema in questo modo. Mi sto chiedendo chi c'è di qua, quindi se qua ci sono i puntini da riempire, questi sono i puntini da riempire, insomma, no, non così però che non va bene. Allora, se ci sono dei puntini da riempire, allora, cosa significa, cosa che scrivo qui? Che 2 elevato alla puntini di puntini è uguale a 16. Allora, qual è il numero che io devo mettere all'esponente di 2 per ottenere 16? 2 alla quarta fa 16. Ora, chiaramente qua io avrò il numero 4, perché il numero dell'esponente di 2 per ottenere 16 è 4. E questo è un esempio abbastanza semplice, abbastanza scontato. Più divertente è chiedersi cosa succede se io, voglio sapere, quanto vale il logaritmo in base, facciamo così, in base 4 di 2. Quanto fa questa roba qua? Oh, caspita, devo scrivere il problema se non sono capace di vederlo così al volo in quell'altro modo, cioè dicendo che 4 alla puntini di puntini è uguale a 2, e questo è un problema un po' meno scontato. Ma cosa vuol dire? Quanto devo elevare il 4 per ottenere 2? È chiaro che 4 è il quadrato di 2, ed è chiaro che 2 è la radice di 4, per cui se vi ricordate le cose che ho spiegato nella prima lezione di questa playlist, cioè quando ho parlato di potenza esponente reale e funzione esponenziale, il numero da scrivere qua dentro è ovviamente un mezzo. Qua scriviamoci il 4 che ho dimenticato prima. È un mezzo, per cui il logaritmo in base 4 di 2 è un mezzo. Allo stesso modo, senza spaventarsi, il logaritmo in base 8 di 2, cosa sarà? Lo scrivo neanche in quest'altro modo. L'esponente che devo dare a 8 per ottenere 2, sappiamo che 8 è il cubo di 2, per cui sarà un terzo. E ancora, un ultimo esempio faccio, poi andiamo avanti. Quanto fa il logaritmo in base 3 di un nono? Ora, è chiaro che 9 è il quadrato di 3, ma qua c'è scritto un nono, per cui io qui cosa devo scrivere? Mi devo chiedere a quanto devo elevare il 3 per ottenere un nono. Sicuramente ci sarà un 2, ma attenzione che io poi devo anche ribaltare il risultato, per cui la risposta corretta qua sarà meno 2. 3 elevato alla meno 2 fa effettivamente un nono. Ora vedete che è solo una questione di abitudine, di esercizio. Se voi prendete confidenza e allenamento con il calcolo di logaritmi, diventa tutta una cosa piuttosto semplice. Quindi è tutto qui. Insomma, il logaritmo non è altro che un altro modo di chiamare l'esponente. Adesso lo sapete, state sicuramente più rilassati e tranquilli. Mi appoggio a questa cosa che ho detto per farvi vedere allora così molto rapidamente che cos'è la funzione logaritmica. Lo faccio veramente in due minuti e non voglio fare discorsi lunghi, ma logaritmica, funzione logaritmica. Allora, ricordiamoci che noi sappiamo abbastanza bene cos'è una funzione esponenziale. Se io voglio riscrivere questa cosa usando le proprietà di logaritmi, insomma la definizione di logaritmo che ho appena spiegato, scopro che x è uguale al logaritmo in base a di y. Allora, ricordiamoci che nella funzione esponenziale a era maggiore di 1, maggiore di 0, scusate, maggiore di 0, sempre. Quindi anche qui noi avremo per forza a maggiore di 0. La cosa interessante da ricordare è che anche y era un numero maggiore di 0, per cui anche l'argomento del logaritmo sarà necessariamente un numero y maggiore di 0. E adesso, come era fatto il grafico della funzione esponenziale? Facciamolo bene. Come era fatto il grafico della funzione esponenziale? No, così, giusto. Eccoci qua. Come era fatto? Adesso io sceglio il caso a maggiore di 1 per comodità, ma quello che dico varrà allo stesso modo anche nel caso a minore di 1. La funzione esponenziale era fatta in questo modo. Se vi ricordate era una curva crescente, fatta così, che passava per il punto 0,1. Ok? Questa era la curva y uguale a alla x. È chiaro che se voglio rappresentare x uguale al logaritmo in base a di y, verrà fuori la stessa curva, ma se io faccio adesso il passaggio di invertire, quindi riscrivere questa cosa come y uguale logaritmo in base a di x, quindi sto rappresentando la funzione logaritmica y uguale al logaritmo in base a, dove a è la stessa, ricordiamocelo. Che passaggio ho fatto da qui a qui? Il passaggio che ho fatto è stato scambiare le x con le y e le y con le x. Ora, fare questa trasformazione, insomma, scambiare la x con la y e la y con la x, significa fare una simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Qua faccio in nero, ma cerco di fare un disegno decente, non è mai facile. Eccolo qua, ok? Fare una simmetria, per cui la funzione logaritmo in base a di x si ridurrà ad essere una curva, facciamola con un altro colore, molto, facciamo un verde, molto simile a quella di prima, ma ribaltata rispetto alla bisettrice, per cui io farò una curva, ecco, inizio male, una roba così e così. Cioè, è come se fosse la funzione esponenziale, ma vista da qui giù, insomma, e non da dove la disegniamo noi di solito. No, troppo. Ok, quindi questa qua che ho scritto in verde sarà la funzione y uguale logaritmo in base a di x. Quindi, banalmente, la funzione logaritmo non è altro che il simmetrico della funzione esponenziale rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Vale anche se la funzione è decrescente, cioè con a minore di 1, è sempre a maggiore di 0, però. In questo caso, lo faccio solo evidenziando il passaggio, io avrei avuto una funzione decrescente in questo modo, ecco, fatta così, e allora avrò, insomma, mi troverò davanti, ovviamente, una funzione logaritmica che decresce allo stesso modo, fatta così. Si incontreranno sulla bisettrice le due funzioni e per il resto saranno simmetrici rispetto alla linea nera anche loro. Quindi la funzione logaritmica non è altro che un simmetrico dell'esponenziale e mantiene i stessi vincoli sulla base a e in più, diciamo, che è anche l'argomento del logaritmo non può essere negativo, per cui noi non vedremo mai una curva logaritmo che si trova da questa parte del piano cartesiano. Questa cosa è impossibile perché si trova sempre nel semiasse, insomma, nel semipiano positivo rispetto all'asse x. E questo era solo per richiamarvi, insomma, per dirvi cos'è la funzione logaritmica. La possiamo vedere proprio come un'estensione, insomma, una simmetria della funzione esponenziale. Detto questo, sapendo cos'è un logaritmo e sapendo come lo si calcola, dedico gli ultimi minuti di questa lezione, poi chissà se veramente saranno pochi minuti o no, lo scopriremo solo quando avrò finito, e voi lo vedete già vedendo quanto dura il video, ma io ancora non lo so per quanto parlerò. Vi faccio vedere alcune proprietà di logaritmi, cioè alcune formule, se volete, alcune relazioni vere per i logaritmi che diventano utili quando si devono risolvere delle equazioni, per esempio. Ora io parto con la prima, magari do un titolo a questa pagina, la chiamo proprietà dei logaritmi. In genere in queste fasi sbaglio sempre qualcosa nel battere i tasti, speriamo stavolta no. Con la proprietà di logaritmi va bene così, non sto a riquadrarlo. Ora vi faccio vedere la prima, che è questa. La prima proprietà che vi spiego dice che il logaritmo, se voi avete davanti il logaritmo in base a del prodotto tra due numeri, b per c, potete riscrivere questo come la somma dei logaritmi in base a di b e c. Quindi il prodotto, il logaritmo di un prodotto diventa uguale alla somma dei logaritmi. Vi faccio vedere la dimostrazione di questa cosa e ve la dimostro secondo dei passaggi abbastanza semplici ma che vanno osservati. Allora, per dimostrarla, dimostrazione, io definisco, insomma, mi invento due numeri x e y e li definisco in questo modo. Dico che x è un logaritmo, logaritmo in base a di b, e che y è anche lui un logaritmo in base a di c. Però, quindi cambia qualcosa. E applicando, insomma, la definizione di logaritmo, questo vuol dire che a alla x è uguale a b e che a alla y è uguale a c. Banalissimo, no? Adesso vediamo cosa succede se io moltiplico queste due. Se io moltiplico a alla x per a alla y, significa che sto moltiplicando b per c, perché sono banalmente queste due, no? Adesso lo scrivete qui. Ma cosa accade se io moltiplico alla x per a alla y? Posso scriverle come a elevato alla x più y, perché applico la proprietà delle potenze. Questa cosa è uguale ancora a b per c. Ma a questo punto, cosa posso fare? Posso, si dice passare i logaritmi, cioè se io faccio il logaritmo a sinistra e a destra di quello che ho scritto, cioè vado a scrivere qua logaritmo in base a di questa roba e di qua anche logaritmo in base a di questa roba, cosa succede? Quanto fa il logaritmo in base a di a alla x più y? Ripetiamone insieme un attimo. A quanto devo elevare a per fare in modo che il risultato della potenza sia a alla x più y? Questa è proprio una definizione dei logaritmi, insomma, se io faccio il logaritmo in base a di una potenza in base a, quello che sto scrivendo di fatto è l'esponente, perché questa cosa diventa uguale a x più y. E questo x più y diventa uguale al logaritmo in base a di b per c. Ma ricordiamoci che x era il logaritmo in base a di b e y quello in base a di c, per cui ho che il logaritmo in base a di b più il logaritmo in base a di c è uguale al logaritmo in base a di b per c. Ora, questa era la formula che volevo dimostrarvi. Conviene che spendo ancora un minuto a spiegarvi un po' questa cosa che ho fatto. Cioè, ho applicato una definizione che è molto simile a quelle frasi del tipo di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Era bianco, ovviamente era così. Ora, se io qua vi chiedo quanto devo elevare la a per ottenere questa cosa che ho scritto tra parentesi, ora è chiaro che se io qui ho la base a e voglio elevarla a qualcosa che la renda uguale ad a alla x più y, devo elevarla alla x più y. Usando dei numeri, se io qua scrivo logaritmo in base 2 di 2 elevato alla settima, a quanto devo elevare il 2 per ottenere 2 alla settima? Ovviamente a 7, è scritto qui. Allora, in generale il logaritmo in base a di a alla n è uguale a n. C'è poco da fare, ok? È una definizione così, che si può imparare la memoria se volete, è abbastanza ovvio. È come se vi chiedessi quanto fa il logaritmo in base a di 1. E qualunque sia il numero a che scrivo qui sotto, per ottenere 1 devo sempre elevarlo a 0. Cioè, è sempre vero che il logaritmo in base a di 1 è uguale a 0, d'accordo? Questa cosa è una di quelle proprietà che si tende a imparare, no? Così come se vi chiedessi quanto fa il logaritmo in base a di a, cioè dove la base è uguale all'argomento. Beh, è chiaro che devo elevarlo a 1, per cui queste tre cose che ho sito qui sono, insomma, tre definizioni che si possono ricordare a memoria sui logaritmi. A me interessava invece in questa schermata farvi vedere questa proprietà che ho appena dimostrato, per cui adesso magari la riquadro con rosso e ci siamo. Invece di dimostrare tutte, magari non so, il procedimento è sempre molto simile a questo. Poi se vi interessa al massimo me lo chiedete nei commenti, ve lo dico. Ed esistono altre. Allora, cosa posso farvi vedere? Oltre al fatto che il logaritmo di un prodotto diventa la somma dei logaritmi, posso farvi vedere che, scrivo qua di fianco 2, anzi facciamo così. Apro una pagina nuova e le scrivo tutte in ordine. Allora, la prima proprietà è questa qua, quindi il logaritmo in base a di b per c diventa logaritmo in base a di b più il logaritmo in base a di c. Una seconda proprietà è quella che il logaritmo in base a di un quoziente invece, quindi non più di un prodotto, sarà uguale alla differenza dei logaritmi in base a di b meno logaritmo in base a di c. Il procedimento è proprio lo stesso, si dimostra nello stesso modo, perché se qui mi appoggiavo a una somma, qua mi appoggerò a una differenza, quindi troverò un quoziente tra i due. Un'altra proprietà interessante da ricordare è quest'altra. Se io mi trovo a risolvere, a dover risolvere un logaritmo, insomma, in base a di b elevato a un certo numero n, faccio così, allora io posso riscrivere questo logaritmo come il prodotto tra l'esponente n per il logaritmo in base a di b. E anche qui io posso dimostrare questa proprietà utilizzando le proprietà delle potenze normali, ok? Questa cosa è sempre vera anche nel caso delle radici, cioè se io avessi il logaritmo di una radice, posso vedere quella radice come un esponente frazionario, per cui portare quella frazione davanti a tutto. Quindi questa è la terza proprietà dei logaritmi che vi voglio farvi vedere. L'ultima proprietà che vi spiego, che vi faccio vedere qui, è quella che io ho usato all'inizio del video per calcolare quanto faceva il logaritmo in base a 2 di 3, perché anche se voi avete la calcolatrice in mano, se cercate, non trovate in nessuna parte, o meglio, se ce l'avete come la mia, no, se ce l'avete un po' più avanzata, o un po' più intelligente, magari sì, però se ce l'avete come la mia, se non volevo offendere, spero che non si offenda, non c'è un bottone logaritmo in base 2 di 3. Ora, cos'è che devo fare? Devo appoggiarmi a una quarta proprietà, posso chiamarla così, la quarta proprietà del cambiamento di base, di base, cambiamento di base, in cui io scopro che se devo calcolare il logaritmo in base a di b, ok, io posso vedere, posso calcolare questa cosa facendo il logaritmo in una nuova base, uso c di b, diviso il logaritmo nella nuova base di a. Ora, se io voglio calcolare quanto fa il logaritmo in base 2 di 3, come ho fatto prima, logaritmo in base 2 di 3, io sulla calcolatrice ho... ho due tasti, insomma, base 10 o base speciale, che è un numero particolare e. Allora, cosa posso fare io con la mia calcolatrice? Mi calcolerò il logaritmo in base 10, a volte se lo si indica con la L maiuscola, log in base 10 di 3, diviso il logaritmo in base 10 di 2. E se faccio questo calcolo, log di 3 diviso log di 2, ottengo quel numero che ho scritto prima, adesso lo rotondo qualche... insomma, non lo scrivo tutto tutto, sennò ci metto un sacco, ma 1,5849625, eccetera, perché, ripeto, è un numero irrazionale. Ora, questa è la quarta proprietà che volevo far rivedere. Quando si vuole calcolare un logaritmo con la calcolatrice, posso sempre appoggiarmi a questa proprietà del cambiamento di base. Quindi, tornando un attimino così a fare il riepilogo di quello che vi ho detto. Non so mai se questa parte effettivamente viene ascoltata da tutti, o quando inizio a dire questo riepilogo la gente si smette di vedere il video perché pensa che ho finito. Comunque, detto cos'era un logaritmo, vi ho spiegato cos'è un logaritmo appoggiandomi all'etimologia della parola, dal greco, logos aritmos, è il numero dell'esponente. Vi ho fatto vedere quindi come si può scrivere in un modo o nell'altro, ho fatto qualche esempio con dei numeri abbastanza semplici, vi ho fatto vedere cos'è la funzione logaritmica, quindi posso vederla come una simmetria della funzione esponenziale, e vi ho fatto vedere le proprietà di logaritmi. Vi ho dimostrato la prima, che è quella del prodotto, non vi ho dimostrato le altre, ma se non trovate in giro la dimostrazione o volete che ve la spieghi, posso smacchire, possiamo organizzare una spiegazione. Io mi fermo qui, quindi tutte queste cose che abbiamo visto adesso sono l'introduzione ai logaritmi, saranno utili nel caso in cui dovremo risolvere delle equazioni logaritmi, che prima o poi compaierà un video anche su questo, ma tra un po', e come sempre vi invito a cercare di capire quello che ho spiegato, cercare di prenderci un po' la mano. Inventatevi logaritmi che volete, inventatevi dei numeri, fate dei calcoli, cercate sul vostro libro degli esercizi in cui vi si chiede di calcolare dei logaritmi e prendete un po' la mano nel pensare all'esponente, quindi allineiamoci a vedere la cosa da un punto di vista opposto rispetto a quello che si usava nella parte dei disponenziali. Quindi il logaritmo è vedere gli esponenziali da un altro punto di vista e se si tiene questa mentalità, penso che l'esercizio risulterà poi più facile e l'argomento in sé risulta la sua più comprensibile, più affrontabile. Con questo io concludo, vi saluto e vi raccomando, buono studio e chiedete se c'è qualcosa che non è chiaro di quello che ho detto. Alla prossima!